Il virus Covid-19 è una minaccia da non sottovalutare. Permettetemi di introdurvi una tecnica di 20 secondi per lavare le vostre mani. Prima di tutto ci sciacquiamo le mani, prendiamo del sapone antibatteri, finiamo bene sulle palme, sul retro, tra le dita e sulle unghie. Sciacquiamo tutto e asciughiamo bene. Ecco fatto, sono lo chef Roberto Galetti e spero davvero che con un po' di igiene partendo dalle mani tutti insieme possiamo sconviggere il virus Covid-19.